Gwendalina Tavassi e Federico Perna si sono sposati alle Maldive, il primo post dell'ex GFina dopo la cerimonia. Grande gioia per Gwendalina Tavassi e Federico Perna, la coppia si è finalmente detta sì dopo diversi anni di fidanzamento, immortalando i momenti di una cerimonia da sogno andata in scena alle Maldive e resa nota dalla stessa Gwendalina, che ha pubblicato un emozionante post su Instagram questa mattina, aggiornando tutti i suoi follower dopo il lieto evento, attesissimo da tempo, corri, mettiti al volo un vestito bianco, abbiamo la cena con il direttore in spiaggia. Comincia così il mio cera una volta di questa fiaba, dove tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli, vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l'orizzonte. E tu, al mio fianco, per dire un, sì, che ci unirà per sempre, le parole emozionanti dell'ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei Famosi. Immancabile la risposta del marito Federico, che nella casella dei commenti ha speso altrettante parole speciali per quella che, adesso sì, è divenuta sua moglie, mi hai fatto piangere di nuovo. Grazie di esistere e grazie per questo giorno che rimarrà stampato nella mia mente e mi accompagnerà per il resto della mia vita, come il giorno più bello, romantico, importante, significativo della mia vita. Finalmente sei mia moglie. Ti amo più di ogni cosa. Per sempre, la coppia nata nel 2021, ha così coronato il grande sogno d'amore in un vero e proprio paradiso.